C'è un personaggio nella Chiesa oggi che viene criticato tantissimo, Papa Francesco, ed è un aspetto nuovo, soprattutto perché la violenza delle critiche arriva soprattutto all'interno della Chiesa, lasciando molti cristiani un po' perplessi. Come mai? La perplessità nasce soprattutto da coloro che sono arrivati alla fede, sono arrivati alla Chiesa attraverso il Vangelo, leggendo la parola di Dio e scoprendo che nelle pagine di Francesco, nel suo esempio, nel suo stile, nelle sue parole, ma c'è il Vangelo. Allora come mai queste critiche? Che cosa è successo? Che cos'è che non viene compreso? È esattamente la proposta ecclesiale di Francesco, che è la Chiesa popolo di Dio. Francesco è il primo Papa del dopo-concilio, quando parlo di concilio Vaticano II, 62-65, che non ha partecipato al concilio, ma l'ha assimilato, l'ha vissuto. Lui è dell'Argentina e ha partecipato a quel cammino di Chiesa, Chiesa popolo di Dio, che ha visto nel cammino della Chiesa latinoamericana una sua attuazione. Allora, il libro La Chiesa popolo di Dio, dall'esperienza brasiliana alla proposta di Papa Francesco, uscite in questi giorni dall'edizione dioniane di Bologna, vuole affrontare esattamente questo tema. Che cosa è successo in Occidente, nel cammino della Chiesa occidentale, da rendere incomprensibile la proposta di Francesco. C'è stato un evento importante, un sinodo straordinario, indetto da Giovanni Paolo II sul suggerimento di Ratzinger, che nell'85 ha modificato l'idea di Chiesa del Vaticano II, che era appunto la Chiesa popolo di Dio, con Chiesa come comunione. Il libro presenta tutti i documenti, sia i documenti che hanno preparato questo sinodo straordinario, anche gli sviluppi successivi, che permettono di capire come mai la difficoltà di entrare dentro questo cammino di Chiesa che il Concilio Vaticano II aveva proposto, un cammino di Chiesa dove i laici sono responsabili, dove la parola di Dio è al centro, dove le donne hanno un grosso ruolo, anche perché uno dei documenti, il documento principale sulla Chiesa, la Lumen Gentio, al numero 32, parlava di principio di uguaglianza. Nella Chiesa siamo tutti uguali, chiaramente ci sono dei ruoli diversi, ma siamo tutti uguali perché siamo tutti figli e figli di Dio, in virtù del Battesimo. Allora, la proposta di questa lettura vuole essere esattamente questo. A partire dall'esperienza specifica della Chiesa brasiliana, il libro è costruito sul metodo che la Chiesa latinoamericana utilizza, cioè vedere, giudicare, agire. Prima parte, l'esperienza delle comunità di base della Chiesa brasiliana negli ultimi vent'anni per vedere che cosa è successo, che cosa si è modificato. Secondo, giudicare l'analisi di quest'idea di Chiesa, popolo di Dio, a partire dai documenti del Concilio Vaticano II e poi vedere come è stato ricepito in Occidente e in America Latina. Terza parte, la proposta di Francesco. Ma non solamente di Papa Francesco, ma anche della fonte, dell'origine del suo pensiero, cioè Bergoglio, quando era gesuita, quando era vescovo in Argentina. Gli sviluppi di questo pensiero nella proposta che noi troviamo nell'Evangelio Gaudium, nell'Amoris Laetitia e negli altri documenti. Riteniamo che questo testo offre delle chiavi di lettura significative e molto ben documentate. Buona lettura.